Prima di entrare nel palazzo municipale una passeggiata io la faccio, ma la faccio non tanto perché la lumina è bella, inizia la giornata così, è meravigliosa, ma perché sento la gente, controllo, verifico alcune cose che ho detto di fare. Il monitorare è fondamentale perché poi quando entri nel palazzo le carte ti soffocano, ti soffocano, è fondamentale invece ad intermittenza girare, girare, chiedere, verificare se le cose che hai dato disposizione di fare sono state fatte e soprattutto come sono state fatte comunque, che meravigliosa.